Tante indicazioni positive per gli Ionici nella trasferta di Casarano, il Taranto però resta una bella incompiuta, il DS Francesco Montervino è al lavoro per regalare a mister la terza la punta tanto desiderata, una problematica acuita dall'infortunio di Alfagheme che ha seguito quello di Corvino, che comunque dovrebbe essere di nuovo abile e arruolabile tra gennaio e febbraio del nuovo anno. Fitti gli appuntamenti in agenda del direttore sportivo Rosso Blu, piace Pasquale Iadaresta del Picerno, in ogni caso il club Lucano non sarebbe intenzionato a privarsi a cuor leggero dell'attaccante 34enne, soprattutto con il rischio di rinforzare una diretta concorrente alla promozione. Il sogno proibito resta Fabio Longo che nell'ultimo biennio ha fatto le fortune della Turris, formazione con la quale ha iniziato l'attuale stagione in C, proibitivo convincere l'attaccante a tornare in D lasciando la campania. Tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il senegalese Seydusso, attualmente al brusaporto con pagine di serie di girone B. Il mercato sarà lungo e il DS Montervino ci ha abituati a colpi a sorpresa, anche con abili depistaggi. Resta solo da attendere la prossima mossa, anzi il prossimo colpo, senza escludere l'ingaggio non di una ma di due punte. Grazie.